Ecco, io alla Kulman avevo richiesto un prodotto solo, invece loro me ne hanno mandati ben quattro Poi avevo richiesto un cavalletto e mi hanno mandato una scatola troppo piccola e troppo piatta Perché ci sia un cavalletto? Insomma, voglio subito vederci chiaro e quindi... Unboxing! Iniziamo giustamente con lui Il Magic Edition 50, quello per i 50 anni di azienda, azienda nata nel 68, quindi l'anno scorso ha festeggiato i 50 anni Qui riportate le attristiche tecniche, peso 1,60 kg, il materiale, il carbonio, la cosa più interessante è il peso che può sorreggere 5 kg Ma andiamo subito ad aprirlo E già la scatola, insomma, dice ma un cavalletto può stare una scatola di due spanne scarse? Sì Se è lui, incredibile, davvero Lui sì, perché ha questa struttura molto molto particolare che è perfettamente piatto Sì, effettivamente devo anche studiarmi un po' come si apre, però insomma, sì È semplice Le gambe si allargano e poi tutti gli snodi Realizzazione in fibra di carbonio Bella Qui c'è l'adessivo Insomma, devo un po' studiarmelo Testa Inclusa, insomma È tutto qui Tra poco vediamo come si apre Ma andiamo avanti Andiamo avanti con una borsa Bella grande Ecco qui Allora, lei è la Kuhlman Amsterdam Maxima 35 Di tutti i prodotti di cui parlo, ovviamente, link qui sotto in descrizione Davanti due bei tasconi Con chiusura a velcro Qui c'è una parte No, niente È soltanto rinforzo Di fianco Qua niente Qua niente Dietro Sì, questa è utile La parte da inserire sul maniglione di un trolley Quindi Se viaggiamo è utile Allora Come si apre? Ah, simpatica la chiusura Infatti rimane rigida Al suo interno abbiamo la tracolla Con lo spallaccio imbottito E tutta una serie di divisori Ovviamente regolabili Quindi possiamo rimuoverli E metterli dove vogliamo Ma la cosa bella è questa Tac Tac Eh sì Il Magic entra dentro perfettamente E quindi nella stessa valigetta Possiamo mettere tutta la nostra attrezzatura E anche il cavalletto Qui un'altra tasca di lato E nient'altro da dire Comunque sì È tutta, vedete È regolabile Ecco, qui ci sono delle taschette Su cui mettere delle schede di memoria Dove mettere delle penne Da questa parte Di qua vediamo No, queste carine Per le schede di memoria Uno, due, tre Quindi taschini separati Su cui mettere le schede di memoria E qua un vano Dove mettere per esempio Non lo so Un caricabatteria Via dicendo Fatta davvero molto bene Ma andiamo avanti Dicevo, questo è un unboxing extra lusso Con il Magneticopter CB 2.7 Anche di questo Link qui sotto In descrizione Che è un mini treppiede Classico sì Si apre così Ma che può fare anche da impugnatura Tipo per reggere Una fotocamera Mentre stiamo vloggando In più ha il suo La sua mini testa a sfera Fatta molto bene Piacevole nell'utilizzo Che dovrebbe avere anche La possibilità Esatto In due secondi Di diventare un supporto Per qualsiasi dispositivo Con l'aggancio per slitta flash Quindi un faretto a led Un flash vero e proprio Un microfono Che vogliamo mettere Appoggiato Su una scrivania Rivolta verso Mario Che stiamo intervistando Tutto in maniera Molto semplice Ma l'ultimo oggettino È quello davvero Geniale È il Cross CC60 Questo per aprire Avrò bisogno Di un aiutino Perché c'è Un punto metallico Da aprire Eccolo Ed eccolo Bello pesante Tanto sano Sano Metallo Andiamo anche Leggermente a stringere Qui l'inquadratura Che secondo me Servirà Per farvelo Verre meglio E cos'è Di per sé È un morsetto Quindi possiamo prendere E andarlo a fissare Su qualsiasi superficie Un tavolino Ma anche Lo so Il finestrino Di automobile Il La cornice Di un monitor E metterci sopra Quindi Mare sopra il monitor La fotocamera Mentre facciamo Una live E questo perché Perché abbiamo Uno Due Tre Quattro Filettature A disposizione Alcune fisse Questa e questa Alcune invece Perfettamente gestibili Vedete In questo modo Non solo I vari pezzi Dovrebbero essere No Questo è Senza fine Quella è la parte Che si smonta No Mi sbaglio Non si smonta Però c'è anche Un attacco Filettato Femmina Qui Esattamente Vedete anche sul cartoncino Un altro esempio Che dimenticavo E anche Sulla bici Quindi Davvero geniale Ma adesso Passiamo Andare a vedere Lui Come si apre E giustamente Come si utilizza Eccomi qui Come mi sta Sì E' la classica Borsa Trocolla Incrociata Tanto capiente Ma abbastanza Capiente Questa è la cosa Che ci interessa Da farci entrare Questo cavalletto Perfettamente Piatto E come si apre In maniera Molto particolare Che in pratica Le gambe Più interne Poi faccio anche notare Questa scritta Qui sopra Che fa vedere Che l'edizione Limitata La mia Numero 61 Appunto Per festeggiare I 50 anni Dell'azienda Vi dicevo Le due gambette Più interne Ruotano In senso Anti-orario E si bloccano Quindi c'è un click Ben udibile Dopodiché Si allargano Leggermente E poi ci sono I classici fermi Da aprire Ruotando E estendendo Blocco 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 Seconda gamba Blocco 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 Terza e ultima gamba Blocco 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 A questo punto A questo punto La colonne centrale È indicato Open E si sfida Del tutto Si prende E si mette Sulla sommità E dopodiché Possiamo prendere E fare Il lock Finito Tutto qui Tutto pronto Problemi Soltanto uno Adesso L'appoggio Per terra Oioioioi Si è proprio Bassino Così compatto Così piatto Ma hanno fatto Poche sezioni Sia sulle gambe Ed sono soltanto Un, due, tre sezioni E la colonne centrale Di un'unica sezione Questo lo rende Comunque Abbiamo visto prima Molto stabile Regge 5 kg Ma altezza massima 97 cm Volendo visto Che Si può leggermente Alzare La colonna E portarlo Sui 102 103 Ma quindi Si rimane Grosso modo Sul metro D'altezza Testa sfera Fatta molto bene Con l'unico sblocco Che permette Sia la rotazione Sia lo sblocco Della sfera In tutti i movimenti Due bolle Messe sui lati Della piastra Piastra a sgancio Rapido Del tipo In metallo Quindi effettivamente Ottima qualità Dei componenti Ma adesso Vorrei andarla A buttare Sulla bilancia E farvi vedere Un paio di utilizzi Degli altri due accessori Subito Subito Sopra La mia bilancina E guardate Il peso È di 1029 1030 grammi Cosa sorprendente Che la prima volta Che vedo Che il peso Dichiarato 1060 grammi È superiore A quello Effettivo Ma togliamo Ma togliamo Per un attimo Lui E andiamo a vedere Un attimo Gli altri due accessori In degli esempi Di utilizzo Uno È questo Ok La mia Fida Canon EOS M50 Che come sapete Utilizzo sempre In tutti i miei viaggi Se volete vedere La sua prova Ve la rimando Qui sopra E effettivamente Tenerla così È scomoda Così invece Si tiene Molto Molto Bene Anche per i vlog Rimane più facile Evitare scossoni Eccessivi Ma poniamo Che vogliamo fare Una ripresa Sopra il tavolo Potremmo fare Così E se dobbiamo Farla ancora più bassa E se volessimo Farla ancora più bassa Possiamo fare così Andare a mettere Il morzetto Fissato qui Dopodiché La testa sfera E prendiamo Togliamo Da qui In questo modo Andiamo A fissarlo Qui sopra Sì sarebbe Da farlo Senza fotocamera Ma Con un po' Di pazienza Riusciamo a fare Anche questo Durante Il video Ecco qua E poi ovviamente Con la monopolina Non lo vedete Ma la vedrete Tra poco Posso prendere Sbloccare La testa sfera E andare a fare Il problema Del jack Della canon M50 Ecco Andare a fare Riprese Puntate Verso il basso Effettivamente Come mi pare E piace E poi prendiamo E blocchiamo Voilà Tutto semplice Facile E effettivamente Molto funzionale Detto questo Andiamo a vedere Le pacelline Anche se onestamente Le pacelline Giustamente Saranno dedicate A lui Iniziamo subito Da cos'è Che mi piace E la prima cosa Da dire Su di lui Ovviamente È questo Fatto Di diventare Perfettamente E assolutamente Piatto Avrei voluto iniziare Il video Con Ho visto Cosi Che voi Umani Non potete Neanche immaginare Citando Blade Runner Ma l'avevo già fatto In un'altra intro Per il DJI Mavic Ve lo rimando Qui sopra Quindi Non mi sono ripetuto Però effettivamente Quando ho conosciuto Questa azienda La Coolman Ho visto questo treppiede E ho detto Ok Questo è davvero Un prodotto Inedito Perché tutti i treppiedi Rimangono Insomma Di sezione Rotonda Rotondeggiante Quando sono chiusi Lui è perfettamente Piatto Quindi se abbiamo L'esigenza Di risparmiare Spazio All'interno Del nostro Zaino di viaggio Lui effettivamente È unico L'altra cosa Che si apprezza È il fatto Che è stato Utilizzato Il carbonio Che vuol dire È davvero Leggero E altra cosa Inedita Anche questa Mi è capitato Per la prima volta Di vedere Che il peso Dichiarato È superiore A quello effettivo Assolutamente È l'inverso L'altra cosa Che ho apprezzato È la testa sopra Completamente In metallo Su tanti altri Cavalletti Ovviamente Più economici Quindi questo si spiega La piastra Di sgancio Rapido Che è la parte Più importante Che tiene al sicuro La nostra fotocamera È fatta di plastica O di materiale Appunto Diversi al metallo No Qui è sano E robusto Metallo Con tre bolle Avete visto prima L'ho detto male Due sui lati E uno messo direttamente Sulla monopolina Di blocco L'altra cosa Che ho apprezzato Che in fondo È anche la cosa Succesa in questa recensione Mi hanno mandato Altri prodotti Da provare Quindi non soltanto lui Ma anche Abbiamo visto Questo geniale Aggeggino Per essere agganciato Un po' Dove Vogliamo Di per sé funziona Anche appoggiato In piano E quest'altro Treppiede Da viaggio Che fa anche Da impugnatura Con una testa A sfera Fatta davvero Molto bene E per ultimo Ma è importante Delle borse Insomma Se andate a cercare La Coolman Fa davvero Di tutto Borsa tra l'altro L'ho notato dopo Con la zippa Ma l'avete visto L'unboxing È a tenuta stagna Quindi davvero Un prodotto E un'azienda Notevoli E invece Cos'è che Non mi è piaciuto Allora Innanzitutto Questo cavalletto Sì Bello in tutto Ma Essere su un metodo Di altezza massima È un po' un problema Tipo Se lo appoggiamo Sopra un tavolo Quindi Anche se dobbiamo fare Di video E siamo seduti Va bene Il cavalletto Mi sta riprendendo Adesso Effettivamente È a un metodo D'altezza Ma se mi metto In piedi Ciao Non va più Bene Come cosa L'altra cosa Un po' particolare Sapete come sempre Tutti i link In descrizione Lui Attenzione Viene dato Come consegna 1-3 mesi Allora Io ho contattato La cool Ma ho detto No Non è vero E che Sendo un prodotto Molto particolare Sapete anche Una serie limitata Amazon Non lo tiene Praticamente A magazzino Ma se fa Qualcuno L'ordine Garantito Che vi arriva subito Attenzione Però Lui costicchia Costa 199 euro Un prezzo Commisurato Al fatto che È realizzato in carbonio Testa in metallo E un Ingegnerizzazione Davvero originale Ma costicchia Mentre Devo dirlo Un aggegino Come questo Che costa Soltanto 29 euro Il cross Ragazzi Se non ce l'avete Nel Mi è caduto Intanto Un po' di roba per terra Se non ce l'avete Nello zaino Non potete Rendervi conto In quanti situazioni Può Darvi la possibilità Di avere Un punto di ripresa Assolutamente inedito Ma ragazzi Il Natale si avvicina Il prossimo video Sarà direttamente Una live Di unboxing Il 25 dicembre Quindi Nella testa Della live Ciao a tutti E buone feste